E' in lutto il mondo del ciclismo fanese per la perdita di Filippo Palazzi, deceduto domenica mattina durante una gara ciclistica amatoriale, il quinto Gran Premio Globauto che si stava disputando nella vicina Romagna a fiumicino di Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì Cesena. Quella di Palazzi, 44enne di Fano, era una passione che coltivava da anni, eppure il destino ha voluto che i suoi ultimi istanti di vita fossero proprio in sella alla sua bici da corsa. E' accaduto intorno alle 8.45 quando al secondo giro, all'altezza del Civico 900 di Via Bastia, ha iniziato a sbandare, si è accasciato all'improvviso ed è caduto a terra. I soccorsi sono stati immediati e gli organizzatori hanno subito interrotto la gara annullando anche quelle successive che avrebbero coinvolto centinaia di ciclisti per tutta la mattinata. I medici hanno tentato di reanimarlo praticando un massaggio cardiaco per una ventina di minuti, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. E' morto all'ospedale Bufalini di Cesena dove è giunto in gravissime condizioni. A tradirlo è stato il suo cuore, nonostante solo i tre giorni prima della competizione aveva portato il certificato medico che autorizzava l'attività agonistica. Secondo alcune testimonianze, Palazzi si era sempre sottoposto ai dovuti controlli, ma con molte probabilità si sarebbe trattato di un arresto cardiaco. Per chiarire con esattezza le ragioni del decesso è stata disposta l'autopsia sul corpo di Filippo e è ancora da stabilire quindi la data dei funerali. Molto conosciuto in città per la sua passione sportiva, insieme al fratello Michele gestiva due negozi di biciclette e attrezzature per lo sci lungo la statale Adriatica, Lido di Fano e in Viale Dante Leghieri in zona Sassonia. La notizia della tragedia è rimbalzata a Fano fin dalle 9.30 quando è stata informata la sua famiglia, nelle ore successive poi in tanti hanno voluto lasciare un ricordo, una foto, un pensiero sul suo profilo Facebook. Quella pagina dove spesso caricava immagini in cui lo ritraevano in sella alla bici e insieme alla sua famiglia, alla quale era molto legato. Palazzi lascia la moglienada e un figlio di 11 anni. Grazie. Grazie. Grazie.